Si starebbero concentrando su una sola persona le indagini sull'omicidio della 57enne di etnia Rom, Francesco Berlingeri, avvenuto intorno alle 19 di giovedì, 19 gennaio, in Via Fiume nel quartiere San Biase di La Mezzia Terme. Ad uccidere l'uomo, con quattro colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata, davanti al suo negozio di ortofrutta mentre scaricava alcune cassette di arance da un furgoncino, sarebbe stata infatti una sola persona a bordo di un motorino, grazie al quale poi ha fatto perdere le proprie tracce. Le testimonianze raccolte dagli agenti del commissariato di La Mezzia Terme e la visione delle telecamere di videosorveglianza della zona orientano quindi le indagini verso un solo killer. Berlingeri è stato freddato davanti alla propria attività alla presenza di alcuni familiari, in particolare un bambino, nipote della vittima, che è rimasto lievemente ferito ad una gamba con un colpo di rimbalzo. Il bambino è stato subito trasportato in ambulanza all'ospedale di La Mezzia Terme ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto, nell'immediatezza, oltre ai sanitari, sono giunte diverse pattuglie della polizia per i rilievi del caso insieme alla scientifica e i carabinieri che hanno regolato la circolazione. Sul movente, al momento, non si esclude alcune ipotesi.